Come si forma in inglese il trapassato prossimo o trapassato remoto, detto passperfect? Useremo il passato semplice, il passimple del verbo avere, che è had per tutte le persone, più il partito passato dei verbi. Ricordo che il partito passato dei verbi regolari si forma come il passato semplice, cioè aggiungendo il suffisso ed alla forma base, cioè all'infinito senza tu del verbo. Per i verbi regolari bisogna consultare i paradigmi dei verbi regolari e imparare il partito passato presente nella terza colonna. Eccolo qua, abbiamo una pagina dedicata a questo, il partito passato presente nella terza colonna. Nella prima colonna trovate l'infinito con il tu, nella seconda il passato semplice, nella terza il partito passato. Nella quarta colonna è la traduzione in italiano. dell'infinito del verbo. Tornando alla nostra lezione, allora, come si struttura una frase con il trapassato prossimo o remoto, cioè col passperfect? Dico trapassato prossimo o remoto perché è traducibile in entrambi i tempi. Ad esempio, to work, abbiamo il verbo to work, I had worked, lo posso tradurre sia con io avevo lavorato, cioè trapassato prossimo, che io ebbi lavorato, trapassato remoto. Chiaramente l'uso del trapassato remoto è poco colloquiale, diciamo così. In ogni caso, però, è corretto dire che col passperfect possiamo tradurre anche il trapassato remoto. Allora, la struttura della forma affermativa è la seguente, soggetto, passperfect e complementi. Ad esempio, I had worked hard that week. Posso fare anche la forma contratta. I had worked hard that week. Naturalmente la forma contratta con l'apostrofo d, che contrae had, è quella più usata nel linguaggio colloquiale. Cosa succede con la forma negativa? Nella forma negativa, had, che è l'ausiliare, prende il not e si contrae col not, quindi diventa hadn't per tutte le persone. Quindi, I hadn't worked hard that week. Non avevo lavorato molto quella settimana. L'interrogativa, come anche abbiamo visto negli altri tempi, abbiamo che davanti al soggetto, in questo caso è had, quindi had, soggetto, partito passato e complementi. Ed I worked hard that week. L'interrogativa negativa, semplicemente, a posto di had, si usa hadn't. Hadn't I worked hard that week. Per ascoltare alcune di queste frasi d'esempio, potete utilizzare i file audio presenti all'inizio della rispettiva colonna. Le short answers sono abbastanza semplici, perché nelle affermazioni di had, quindi useremo had you worked hard that week. no, I hadn't. Se abbiamo un nome, in questo caso Bob, had Bob ever worked in London, yes, he, perché è un maschio, he had, no, he hadn't, quindi ricordarsi di usare sempre il pronome personale che si riferisce al soggetto della frase. Quando si usa il past perfect? Lo usiamo anche con i verbi intransitivi, per esempio, she had arrived, lei era arrivata. A differenza dell'italiano, in inglese i verbi intransitivi non vogliono il verbo essere come ausiliare, ma vogliono il verbo avere. Il verbo essere viene usato in inglese con il partito passato di un verbo quando si vuole creare la forma passiva, che sarà naturalmente oggetto di studio in un prossimo, in un'altra sezione di questa videogrammatica. Inoltre, usiamo il past perfect con azioni avvenute prima di altre che si sono già concluse nel passato. Per esempio, when they got to the airport, the plane had already taken off. Quindi, quando arrivarono all'aeroporto, when they got to the airport, l'aereo era già decollato. The plane had already taken off. Had taken off, è il past perfect to take off, che significa decollare, ed è un'azione che si era già conclusa prima che loro arrivassero all'aeroporto. Qui ci sono cinque esercizi interattivi per la comprensione di questo argomento che è stato affrontato.